Bene, buonasera a tutte e a tutti, io sono Mimmo Laforenza, fino a qualche mese fa ero dipendente CNR e da poco ho cambiato azienda, lavoro per l'Inps da due mesi a questa parte. E' un'ottima, vi posso garantire che è un'ottima azienda, paga per non far nulla, quindi è molto interessante. Diciamo, sono felicissimo, molto contento di questa giornata, perché questa giornata nasce in un contesto quasi magico, devo dire, perché ci sono una serie di coincidenze che rendono questo giorno particolare. La prima coincidenza è legata al fatto, ora cominciamo, ovviamente avete già visto tutto, le origini dell'informatica e del networking, che sono intimamente legate, anche se sono successive come inizi, e il professor Gianfranco Capriz, che molti di voi conoscete, ma non tutti lo conoscono, dopo lo presenterò, sarà la guest star del film, docufilm che è stato pensato e metabolizzato dal professor Luciano Lenzini, che vi presenterò per quelli che non lo conoscono, e poi, diciamo, tutta la implementazione di questa idea, di Luciano con Gianfranco Capriz, che poi racconta, è stata realizzata da Alessandra Valvani, che è una regista che si occupa di attività scientifica in particolare. Quindi, perché siamo in un momento magico? Siamo in un momento magico perché quest'anno, e saluto il lettore, il professor Mancarella, che è qui con noi, è l'anniversario, il cinquantesimo anno da quando è stato creato e si è creato il corso di laurea in scienze dell'informazione, di cui io sono un piccolo adepto, anche se non sono stato fra i primi, qualche anno dopo l'inizio, come Paolo, come il lettore. Quindi, primo evento, ovviamente si tralascia il fatto che nel 69 c'è stata ovviamente tutta una serie di attività spaziali, la luna, eccetera, che abbiamo celebrato e ancora si celebrano, ma nel 1969 accadeva anche che il 29 ottobre 1969, la marcia su Roma, no, era nel 23, giusto? 28, 28. E dicevo che accadeva che veniva mandato il primo messaggino, login in realtà partirebbe solamente a LO, fra l'Università della California, Los Angeles, e lo Stanford Research Institute vicino a San Francisco. Quindi una serie di coincidenze e vi segnalo due siti importanti, quello dell'Università, dove c'è un tantissimo materiale molto interessante, storie, vecchie fotografie, la situazione, diciamo, di quello che oggi è il Dipartimento di Informatica, e poi quest'altro sito, che sono le origini internet in Italia, che è stato realizzato, entrambe le cose sono state realizzate, con una joint venture economica e organizzativa da parte dell'Università di Pisa e del Consiglio Nazionale di Ricerca, nella fattispecie dell'Istituto di Informatica e Telematica. Andiamo quindi a presentare la nostra guest star, il professor Gianfranco Capriz. Qui lo vediamo, studente dell'Università di Pisa. Dovete sapere che il professor Capriz, classe 1925, un software eccellente, l'hardware è quello che è, perché vorrei vedere noi se arriveremo mai a quest'età, però il software è incredibilmente evoluto, raffinato, come lo era un tempo, e la questione importante è che io non sapevo, andando a guardare la tua attività di vita e scientifica, la scientifica la conoscevo, non sapevo che tu sei stato dal 1943 al 1945 chiuso nel campo di concentramento di Bitterfeld in Germania, dai nazisti. Questo non lo sapevo, onestamente non... E' un buon esercizio per il resto della vita. Io farei un applauso solamente per questo. No, no, le scuole estive in questo tipo di cose, non tenderei a escluderle. Allora, dicevo, il professor Capriz, di cui qui c'è un pezzettino, vedete che lui, e ti sei iscritto a matematica, però a Padova agli inizi, vero, se non ricordo male, forse il primo anno, vero? Poi è arrivato a Pisa, 46-49, Università di Pisa, è scuola normale superiore, dove ha preso il PhD in matematica fisica, lui è un matematico. Poi è stato dal 65 al 2000 professore di meccanica razionale, oggi professore di merito dell'Università di Pisa. Per quanto riguarda gli aspetti dell'informatica, dal 62 al 79, lui è stato prima direttore del Centro Studi Calcolatrice Elettroniche, che praticamente era quella entità che era stata creata, dove i progettisti, i ricercatori dell'epoca, erano quelli che si andavano, erano quelli che avevano lavorato per la CEP, la Calcolatrice Elettronica Pisana, a partire dalla, diciamo, dalle idee di Fermi, eccetera, 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 che poi verrà raccontata nel film. Quindi lui è stato sicuramente il direttore di questo, poi questo è diventato Istituto di Laborazione dell'Informazione, poi è stato direttore del CNUCE, CNUCE, calcolo, macchine, macchine potenti, internet, eccetera, eccetera. Poi si è spostato in un'attività andando a presiedere la Texiel, che era una realtà molto moderna per l'epoca che si trattava, trattava di, diciamo, di telematica in generale, dall'88 è accademico dei lincei, ha una medaglietta sulla sua parte sinistra della giacca che sfoggia oggi per questo, e poi ovviamente è stato presidente, vicepresidente di tantissimi, diciamo, consessi di tipo matematico, matematico applicativo e così via. Questo è Gianfranco Capriz. Andiamo a Luciano Lenzini. Luciano Lenzini, questo è gli avantieri a Roma durante le celebrazioni al CNR dei 50 anni di internet, diciamo, la declinazione italiana dei festeggiamenti internazionali. Luciano Lenzini, classe 44, si laurea a Pisa nel 69, lavora dal 70 al 94 come ricercatore, direttore di ricerca, in particolare, ha sempre guidato il dipartimento, chiamiamolo dipartimento di networking, in realtà aveva un nome un pochettino più articolato all'epoca. Poi è stato, dopo un'esperienza negli Stati Uniti al centro IBM a Cambridge, è stato il capo progettista di diverse realtà che andavano in parallelo con quello che avveniva negli Stati Uniti per quanto riguarda la rete ARPA. Quindi per esempio si realizzava la rete RPCnet, che è stata la prima rete di tipo, diciamo, a commutazione di pacchetto italiana, si evolveva verso Stella, una rete che vedeva già la velocità di comunicazione, perché c'era il satellite di mezzo a aumentare notevolmente, si andava addirittura a 2 megabit al secondo, pensate, oggi si parla di backbone che arrivano, diciamo, superano i 100 gigabit e sperimentali arrivano al terabit al secondo. Poi siamo arrivati su Osiride, quindi l'idea che i calcolatori potevano e dovevano collegarsi insieme e anche se non di tutte le case, dalla stessa casa, per esempio, RPCnet fondamentalmente le macchine erano in frame IBM, fondamentalmente. Osiride invece prevede l'apertura, c'è l'Olivetti all'interno di Allore dei Benedetti, eccetera, e poi segue con le persone del suo gruppo i primi vagiti di attività che poi porteranno il 30 aprile del 1986 a mandare il primo messaggio da Via Santa Maria 36, sedia del Cruce, a mandare questo messaggio. Tutte queste cose le vedrete in diretta fra un po'. Poi passa alla concorrenza, nel 1994 diventa professore, full professor e professore ordinario al Dipartimento di Ingegneria della locale Università di Pisa. È stato poi professore visitatore presso DMT Alti Studi di Lucca, eccetera, eccetera, eccetera. Allora a questo punto noi al termine della presentazione ci sarà la presentazione parla di quello che è la storia dell'informatica e delle reti. Vabbè, ma è passato qualche anno. Che succede? Allora io ho intitolato questa tavola rotonda che vedrà i responsabili dei dipartimenti di Ingegneria, di Scienze, eccetera, e degli istituti del CNR e di Lucca e della Sant'Anna vedere confrontarsi con quello che c'è cosa c'è dietro l'angolo. Vabbè, abbiamo parlato di reti allora, la CEP, l'evoluzione, ma adesso che sta succedendo? Con un orizzonte a 5-6 anni perché oltre bisognebbe essere magozzurri perché le cose viaggiano talmente veloci che è possibile immaginarli ma fino a un certo punto. E quindi c'è ovviamente alt, chi siete, cosa portate, sì, quante siete, un fiorino. e facciamo un po' il punto nave di questo. Queste sono le persone, gli amici, i colleghi che faranno parte della tavola rotonda e con questo, questi sono gli argomenti che poi li vedremo dopo, io vi auguro una buona visione di questo film che io ritengo sia estremamente importante perché è un pezzo di memoria storica che mancava al nostro carnet storico. Grazie. 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 30 secondi into the flight, Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles downrange from the Kennedy Space Center already. Trevi. 7, 6, 5, Le attività che oggi cataloghiamo sotto il nome di informatica. In Italia hanno avviato i primi passi nella prima metà degli anni 50. In quel periodo vengono gettati i primi semi che produrranno negli anni seguenti un raccolto copioso e spesso di grande qualità facendo assumere a Pisa un ruolo rilevante sia a livello nazionale che internazionale. Al Museo degli Strumenti per il Calcolo di Pisa è esposta la CEP, il primo calcolatore elettronico interamente progettato e costruito in Italia. Proprio in questa città un groviglio di fili e valvole anticipano la tecnologia informatica di oggi così leggera e portatile. Nel 1976 i ricercatori pisani rendono disponibile il primo prototipo RPC-NET la prima rete di computer frutto della ricerca italiana. Il 30 aprile 1986 dalla sede del CNUCE a pochi passi dalla Torre Pendente viene lanciato il primo ping verso un computer della Pennsylvania che rispondendo con un semplice ok conferma il primo collegamento dell'Italia ad Internet. A Pisa sono stati tracciati sentieri che sono diventati strade allora inimmaginabili. È una storia fatta di fatica, di ricerca, di tecnologie, ma soprattutto di persone. tra loro Gianfranco Capriz professore merito dell'Università di Pisa e socio nazionale dell'Accademia dei Lincei uno dei pionieri di questa frontiera. Oggi ci racconta i progetti e lo spirito con cui a Pisa nella seconda metà del secolo scorso si costruiva il nostro presente e futuro. Scusate se io leggo o almeno seguo alcuni appunti ma mi è stato necessario per dare ordine significativo a ricordi che si soffroppongono per importanza piuttosto che seguire l'ordine temporale effettivo. C'è a Pisa inizio anni 50 del secolo scorso nell'Istituto di Fisica un provetto gruppo di ricercatori ramo della scuola romana di Amaldi dalla quale aveva fatto parte anche Enrico Fermi a suo tempo. Qui il gruppo era guidato da un altro grande fisico Marcello Conversi nei primi anni 50 erano stati proposti progettati e resi funzionanti i primi acceleratori di particelle i sincrotroni macchine che promettevano fondamentali risultati sia sperimentali sia suggerimenti di nuove teorie. Il gruppo pisano anelava a costruire uno a Pisa di questi acceleratori e svolse un'azione anche tra le autorità locali per raccogliere i fondi indispensabili. ci fu qui una risposta favorevole quasi entusiasta ed efficace fuori era di successo ma il comune di Roma finì con essere più generoso e la scelta della sede per la macchina fu infine frascati. La somma raccolta a Pisa rimase a disposizione dell'università e si trattò di decidere se e quale progetto alternativo si potesse suggerire. naturalmente il principale agente dell'iniziativa era stato conversi e da lui ha suggerito di interpellare Fermi tristemente dobbiamo dire poco prima che morisse e aveva visitato l'Italia e quindi in quel momento era a Varenna per una riunione di fisici conversi è andato da Fermi a Varenna e ha suggerito a Fermi di scrivere al rettore di Pisa per indicare la sua scelta costruite un calcolatore perché forse non avete i mezzi avrete mai i mezzi per acquistarne uno il rettore rispose quasi subito assicurando che avrebbe svolto le consultazioni di rito intese a creare un centro studi sull'argomento in effetti il tempo non fu perso il rettore riuscì a far approvare in un brevissimo lasso la creazione del centro studi calcolatrici elettroniche CSCE entro il quale si sarebbero state avviate le azioni necessarie sotto la guida di conversi innanzitutto scegliere un gruppo di valenti ed entusiasti collaboratori per un progetto interdisciplinare del tutto nuovo con le conseguenze inevitabili incertezze tra loro mi piace di ricordare caracciolo pieno di idee molto avanzate su tanti problemi della scienza ma idee disciplinate dalla logica e dalla conoscenza di strumenti disponibili o realizzabili c'era anche da distribuire il lavoro a base di competenze e capacità e di inventare procedure per assicurare collaborazioni strette ed efficaci certamente l'elettronica avrebbe avuto una magna pars e si tenga conto che allora prevaleva nella facoltà di ingegneria l'idea che quel campo non meritasse una collocazione autonoma essendo dopo tutto una scheggia della elettrotecnica classica standard dovevano passare due decenni perché Alberigi 40 potesse gloriarsi di essere il primo professore chiamato ad una catena di elettronica comunque Gerace laureato in ingegneria aveva le credenziali per scegliere dispositivi adattarne qualcuno all'uopo valutare i costi ma le scelte naturalmente eravano discusse in gruppo e i compromessi dovevano essere raggiunti sotto la guida benigna di conversi preoccupazioni ed aspettative erano condivise da molti altri gruppi nel mondo anche se la spinta maggiore era stata esercitata da ragioni militari anche tra gli scienziati che avevano partecipato al progetto e alla realizzazione della superbomba vinta la guerra era nato il desiderio di risolvere via calcoli problemi curiosi e difficili al tempo della lettera Fermi stesso sperava di chiarire un fenomeno di propagazione ondosa in cristalli in un reticolo atomico un problema che richiedeva calcoli estesi che fu poi chiamato FPU dalle iniziali di quelli che hanno lavorato Fermi e i due collaboratori Pasta e Dulam appunto quindi io credo che anche la sua lettera al rettore sia stata colorata da questa idea che il calcolatore servisse essenzialmente per scopi scientifici e per chiarire alcuni aspetti della fisica principalmente dato i suoi interessi una volta per tutte questo calcolatore è un calcolatore che è nato intorno al 1960 i lavori per costruirlo sono iniziati nel 1955 l'obiettivo era quello di costruire un grosso calcolatore che potesse incrementare le ricerche scientifiche qui almeno nell'Università di Pisa e anche in Italia e potesse essere il punto di partenza per la formazione di una serie di tecnici specializzati in questo settore perché la ricerca in questo campo potesse progredire il calcolatore come vedete è molto grosso oggi un calcolatore di questa potenza potrebbe essere concentrato in un'area molto più piccola il calcolatore ovviamente è vecchio l'abbiamo messo in riposo nel luglio dell'anno passato ha lavorato quindi per una diecina d'anni l'origine e la costruzione di questo calcolatore è avvenuta in due fasi una prima fase nella quale noi abbiamo costruito un calcolatore pilota il secondo calcolatore che è questo che vedete è un calcolatore che è stato progettato e costruito in due anni e mezzo mentre il primo è stato in linea assoluta il primo calcolatore costruito in Italia e progettato questo quando fu finito era uno dei più potenti calcolatori allora esistenti anche in Europa nello stesso periodo ha avuto grande importanza un intervento molto saggio della Olivetti di creare un suo laboratorio a Barbaricina nella periferia di Pisa per un progetto parallelo industriale purtroppo lo scienziato geniale che guidava quel gruppo Mario Chu è poi morto in un incidente stradale e ne è seguito il trasferimento del gruppo in una sede presso Milano e la collaborazione ben possibile ed augurabile si è sostanzialmente interrotta nel 1968 il centro studi calcolatrici elettroniche dell'Università di Pisa si trasforma nell'istituto di elaborazione dell'informazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche continuando a svolgere attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'informatica e preparando docenti non solo per l'Università di Pisa ma anche per tutte le altre università italiane la CEP per quanto abbia svolto ottimamente il suo compito a un certo punto non è stata più in grado di soddisfare le richieste di calcolo scientifico provenienti dal mondo della ricerca italiana per risolvere questo problema verso la metà degli anni 60 l'allora rettore dell'Università di Pisa il professor Alessandro Faedo fonda a Pisa un centro universitario in grado di svolgere tale servizio Nel continuare la storia lasciando questo devo dire che a questo punto incontriamo due altri personaggi forse di gran lunga più influenti alla nostra storia di quelli precedenti uno Alessandro Faedo un rettore veramente magnifico dell'Università di Pisa e Carlo Santa Croce allora vicepresidente dell'IBM Italia grande amico di Faedo fin dai tempi quando erano studenti in normale con l'aiuto di Santa Croce Faedo andò alla ricerca di amici che aveva in tutto il mondo e anche all'allora vicepresidente generale Santa Croce era vicepresidente dell'IBM Italia dell'IBM che era di nome Fubini figlio di un famosissimo fisico-matematico italiano che poi Faedo aveva conosciuto quando era studente alla scuola era diventato uno dei vicepresidenti dell'IBM e quindi Faedo è andato negli Stati Uniti a parlare del problema a Fubini innanzitutto per poi incontrare anche il presidente stesso dell'IBM per suggerire che l'IBM fornisse gratuitamente a gruppi di ricerca europei alcune copie diciamo dell'ultimo calcolatore dell'IBM Il viaggio in America mi ha permesso di avviare in 70 o in 70 o in 90 lo fare in cruce perché ho ritrovato un vecchio amico che era Eugenio Fubini che era vicepresidente dell'IBM eravamo andato a visitare a Pochizzi lo stabilimento antico dell'IBM dove era solo c'era un capannone antidiluviano e questo capannone c'era all'interno tanti stand ma le frenti divisori hanno direte metallica e dentro ogni stand montavano un 70 o 90 e io sono entrato a vedere e ho letto i nomi dei committenti erano tutte industrie e università americane nessuna università europea l'unica non americana era la università di Tokyo e allora siccome era molto amico di Fubini torno da lui e dico senti ma io ho visto lì perché poi avevo visitato il loro centro il loro laboratorio l'ho capito che la seconda generazione del calcolatore stava per finire che si lavorava a collegare con la via ossidrica un transistor all'altro e ho detto ma avete tutte le componenti perché lì c'era in questi stem c'erano i buchi di transistor per terra e perché non la regalate qualcuno alle vecchie università europee che erano un mezzo per un plato invece sei matto anche la regola a dire la verità di quel calcolatore si preparava la chiusura delle linee di produzione per prepararle per la prossima diciamo generazione dell'IBM 360 si trattava di allungare un po' l'uso di queste linee di produzione per soddisfare le necessità europee e così l'IBM decide di finire con un'altra produzione di altre tre macchine che furono date all'Inghilterra alla Danimarca e all'Italia come le zone che allora l'IBM stessa aveva valutato che vi si lavorasse in modo particolarmente serio sulla questione sono in Italia ed un previso mi telefona e dice sai dice fra quella tua idea ci ho ripensato si può realizzare costruiremo 3,70 e 90 uno per l'Università di Londra che è la madre della città in consasso uno per un paese del nord Europa uno per un paese del sud Europa se tu mi garantisci che il governo italiano accetta il dono lo diamo in Italia allora io sono andato era il presidente Moro il ministro lui un altro dì dove sa che c'era il terzo e poi dice lo vogliono dare non ho pure cosa è una pregatura e io ho detto se non lo vogliamo noi la Francia se lo piglia solite allora ho risposto a lui che accettavamo un anno dopo e allora l'hanno costruito il 70 e un anno dopo il grande albergo di Roma in via in via Benedetto l'IBL una cerimonia ha consegnato al governo italiano il 70 e il discorso l'ha fatto Carlo Santacroce che ora era vice direttore generale dell'IBL l'Italia e erano stati invitati tutti i rettori dell'università italiana e io ero accanto a Papi che era rettore di Roma e Papi fa questo calcolatore deve essere andato all'università di Roma che è la più grande dell'università italiana e lui ha detto ma che sia la più grossa sono d'accordo sulla più grande bisogna fare un'analisi storica e lui che è uno dei più grandi garantuoni che abbia conosciuto che era deputato di Padova e poteva dare un'università di Padova perché era dato il governo italiano non a un'università certo quindi era un buon nazionale sì e quindi aveva stato il ministero si capisce lui poteva dare un'università di Padova lui ha detto subito no questo l'ha dato non sa di Pisa perché l'abbiamo avuto per interessamento al professor ci fu anche la questione di discutere Pisa o Roma perché Roma padrona funzionava anche allora ma Faedo funzionava anche meglio e naturalmente il calcolatore è stato poi assegnato a Pisa il 5 luglio del 1965 viene firmata la convenzione tra l'università di Pisa e l'IBM Italia per l'istituzione del centro nazionale universitario di calcolo elettronico o CNUCE il CNUCE nasceva con il compito di svolgere un servizio di calcolo tecnologicamente avanzato per la comunità scientifica nazionale grazie al suo calcolatore IBM 7090 il centro aveva anche il compito di svolgere attività di ricerca per innovare costantemente il servizio ho accennato alla creazione del cruce attraverso una convenzione tra l'IBM e l'università di Pisa due realtà molto diverse naturalmente il fatto a cui le università non erano affatto preparate di offrire un servizio per una comunità distribuita su un territorio molto più vasto di quello a cui facevano riferimento di solito le università era difficile fare intendere anche l'impegno richiesto per corrispondere a queste esigenze che non erano quelli che gli scienziati normalmente affrontavano tanto fa che c'è stata una polemica c'è stato un periodo cosiddetto del piccolo e bello che ovviamente contrastava con l'esistenza e il finanziamento di un grosso centro di calcolo insomma io ho finito col dire ma che volete che invece della normale facciamo tante normaline distribuite che invece del cruce facciamo tanti i cruncini distribuiti e adesso questo mio discorso può far ridere ma tenete conto che c'erano anche le esigenze diciamo dell'università un po' periferiche di entrare nel campo che ormai si chiamava informatica anche se con calcolatori di dimensioni più piccole alimentavano le polemiche contro il cruce dunque i problemi che affrontava il cruce anche nel contesto universitario erano molto grandi la stessa conduzione di un grosso di centro di calcolo e la preparazione di persone sufficientemente esperte per sapere condurlo di ora in ora diciamo e gestirlo poi sono problemi molto complessi per l'università che non è preparata attività di questo genere quindi si doveva creare si è creato a Pisa una realtà di persone competenti che non esistevano in generale e che anche l'IBM Italia aveva difficoltà a reperire diciamo così sul mercato del lavoro nel 1974 il personale ed il parco macchine del CNUCE hanno assunto dimensioni tali da non poter essere più gestiti dall'università di Pisa il CNUCE da centro dell'università di Pisa diventa quindi un istituto del CNR naturalmente stavo dicendo che comunque il CRUCE ha sviluppato anche argomenti di ricerca cito due altre se volete un po' minori ma che hanno avuto anche se delle conseguenze più ristrette magari se volete una è la linguistica computazionale in fondo ha richiesto catene di stampa diverse molto variate l'intervento di persone del tutto aliene da questo tipo di lavoro della facoltà di lettere studiare all'aria aperta era una prerogativa degli antichi ma anche queste due studentesse pisane primavera permettendo non disdegnano di seguire i vecchi metodi sul prato della piazza dei miracoli alle prese con una traduzione di latino forse non sanno che a poca distanza c'è qualcuno che si sta dando da fare per agevolare il loro compito sono glottologi e latinisti che riuniti al centro nazionale universitario di calcolo elettronico portano a termine in questi giorni l'operazione latino in macchina e adesso c'è una vigacissima attività in questo campo anche nell'accademia dei lincei quindi è stata la creazione va bene di un campo notevole che è nato entro il cruce e ha prodotto anche dei risultati per cominciare diciamo l'elenco delle parole che appaiono nella divina commedia che poi si è trasferito a tutte le opere di San Tommaso questa è una bobina di nastro magnetico nella quale sono contenute una parte delle opere di San Tommaso d'Aquino San Tommaso insieme con molti altri scrittori come Manzoni come André Gide Dante sono stati già analizzati dai calcolatori elettronici le loro opere sono state tradotte sotto forma di impulsi magnetici su queste bobine di nastro che vengono lette dall'unità lettura nastro magnetico e inviate nella memoria centrale del calcolatore questa è la memoria questa sarebbe la memoria cioè questo ammasso di fili questi sono i fili che collegano la memoria con il resto del calcolatore il quale si astende per tutta la sala questo però è il cervello il nucleo pensante potremmo dire del calcolatore elettronico e poi dalla memoria doveva il San Tommaso d'Aquino qui dentro le opere vengono analizzate parola per parola e messe insieme tutte le frasi che contengono ciascuna determinata parola successivamente lì vengono effettuate delle liste delle stampe per mezzo delle quali si può cioè lì sarebbe nel vero e proprio calcolatore insomma quella è l'unità di scrittura del calcolatore e lì vengono fuori i risultati che sono costituiti da elenchi di tutte le frasi contenenti tutte le parole delle varie opere che sono state analizzate quindi praticamente si procede alla elaborazione di queste parole e si può fare un confronto tra parole e parole certamente le parole vengono elaborate esattamente come il calcolatore può elaborare dei numeri soltanto che in questo caso invece di eseguire operazioni aritmetiche esegue operazioni logiche operazioni di controllo e poi anche la computer music adesso richiamo in memoria un brano di paganini memorizzato precedentemente sul disco lo richiamo nella memoria centrale e verrà eseguito e adesso è diventata diciamo così quasi una zona di divertimento ma che ma che allora è stata pensata come ad esempio la possibilità di suonare da un terminale audio attraverso il calcolatore certe siamo creazioni di Bach che qualche volta per impossibilità di un violinista di muovere rapidamente la mano trovano difficile da suonare und veniamo quindi ad un altro argomento ed è quello dello spazio che è stato completamente dimenticato I primi calcoli su traiettorie confinanti con lo spazio sono stati fatti addirittura dal G.S. C'era il generale Broglio, il generale e il professore all'Università di Roma, che ha fatto sì che l'Italia fosse la prima nazione dopo gli Stati Uniti e la Russia a lanciare un suo satellite. Il 15 dicembre di 50 anni fa, dalle coste della Virginia, a Wallop Island, l'italico San Marco veniva lanciato nello spazio. L'Italia era così il terzo paese, dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, a conquistare il cosmo. E i calcoli per questo sono stati cominciati addirittura dal G.S.C. per vedere che i primi lanci da Puerta di Fregos in Sardegna non finissero per colpire Roma ma cadessero nel terreno e poi naturalmente per il lancio da una piattaforma dell'ENI vicino alle coste del Kenya. E anche questo ha portato delle competenze di controllo dei satelliti che poi sono servite per molti anni. Ovviamente anche per raccogliere esperienze e conoscenze nella guida dei satelliti e comunque nelle traiettorie spaziali sono stata la conseguenza di periodi passati negli Stati Uniti e anche nella importazione dai centri dove effettuavano questi calcoli correntemente di pacchetti di programma che sarebbero stati poi trasferiti sul calcolatore del Kenuce. Esattamente alle ore locali, 19.50 del 25 agosto, si accende dalla rampa 17B il primo stadio del Tortenza 2313. Nella sala di controllo. Mi avvio adesso a parlare di reti che poi è l'argomento principale di questa conversazione. Per introdurre la questione mi piace ricordare i primi scontri tra le industrie manufatturiere dei calcolatori e quelle che allora si chiamavano società telefoniche. Ho partecipato a Parigi a una delle prime, credo la prima, riunione tra produttori di calcolatori e diridenti di società telefoniche europee, i francesi, i tedeschi, i italiani. I dirigenti delle società telefoniche erano tutti in giacca e cravatta come sono io adesso, ma naturalmente in abito scuro e usavano espressioni come Enchanté, Monsieur le Président, viceversa i calcolatoristi si incontravano, davano delle grandi pacche sulle spalle Hey John, how are you? How is your wife? E utilizzavano appunto espressioni così familiari anche se distanti geograficamente da continente a continente. Il contrasto era poi naturalmente essenzialmente tra quello che volevano usare le linee telefoniche il più liberamente possibile e quelli che imponevano delle limitazioni anche di costi assolutamente inconcepibili. E questo fatto ha portato infine come primo compromesso all'accettazione da parte delle società telefoniche europee di una rete rivolta alla ricerca e alle università. La rete rivolta alla ricerca nuovo incontro a casa mia per riattaccarmi a quanto ho detto in quel incontro precedente. Per poter offrire un servizio tecnologicamente avanzato Alcnulge nasce e si concretizza l'idea di ricerca finalizzata al servizio. Nei primi anni 70 nascono e sviluppano alcuni fondi di ricerca di cui abbiamo detto che avranno anche un impatto nella comunità scientifica nazionale. E' uno di quelli naturalmente il networking. Negli anni 70 e 80 Alcnulge vengono sviluppati tre progetti pionieristici nell'ambito del networking, cioè lo studio delle reti di computer. Questi progetti regalano Alcnulge e ai suoi ricercatori una notevole reputazione scientifica e visibilità non solo nazionale ma anche internazionale. RPC-NET, la prima rete nazionale di computer tipo ARPANET. STELLA, la prima rete europea di computer via satellite. OSIRIDE, una tra le più importanti reti a livello mondiale, conforme agli standard OSI dell'ISO. Questa attività pionieristica culmina nel 1986 con il collegamento dell'Italia ad Internet. L'Italia è la quarta nazione europea ad aderire al progetto della nuova rete, che ben presto diventerà lo standard del networking internazionale. I primi passi sono stati quelli di ARPANET. a Pisa, il rettore dell'università Faedo e il direttore del CNUCE Torrigiani allora, e travisano in questa rete un'opportunità straordinaria non solo per svolgere studi e ricerche in un settore scientifico di agguanguardia, ma anche per valutare l'impatto che tale tecnologia avrebbe avuto nel modo di realizzare il servizio. E per poter concretizzare questa prospettiva nel 1970, il consegno avviò il progetto REEL, cioè rete di elaboratori brevemente, con l'obiettivo di progettare e implementare una rete di computer analogo ad ARPANET, denominata ARPICINET. Il primo prototipo funzionante fu disponibile nel 1976. Naturalmente, come vedete, la creazione di competenze e l'utilizzazione delle competenze ottenute per realizzare un po' di tempo ci vuole. Dal 1978 all'84 ARPICINET collegò una decina di centri di calcolo del CNR e quindi ha aiutato a diffondere anche attraverso tutta l'Italia, cosa che non viene ricordata troppo spesso, competenze che non c'erano ed erano difficili da ottenere singolarmente, mentre il CNRUCE le ha offerte essendo stato pioniere delle circostanze. Terminata la realizzazione di ARPICINET, nel 1978, il CNRUCE partecipa alla progettazione e realizzazione di una rete di computer via satellite ad altissima velocità, denominata STELLA. Questa rete è in grado di trasferire grosse quantità di dati tra il CERN di Ginevra, dove vengono effettuati gli esperimenti sulle particelle elementari, e di principali laboratori europei di fisica delle alte energie, come l'INFN italiano. STELLA, proposta dal CERN, utilizza il satellite OTS dell'Agenzia Spaziale Europea. Nel cortile del CNRUCE viene installata su un'apposita torretta che sovrasta i tetti delle case circostanti un'antenna parabolica del diametro di 4 metri, in grado di comunicare con il satellite OTS. STELLA fu la controparte europea della rete USA denominata SATNET, utilizzata per estendere internet in Europa. E poi addirittura possiamo dare una data precisa. Il 19 ottobre dell'83, presso la Domus Gallineana, viene fatta la prima dimostrazione di STELLA, la prima rete europea di computer via satellite, alla cui realizzazione, progettazione e realizzazione, Quisa contribuisce col ruolo di guida a livello informatico. Serv Sid say Assolutamente Do vena Vena Trage Vena E D M Ad La rete RPCnet ebbe un notevole successo tra gli utenti del CNR e delle università ma dopo i primi anni di operatività si pose il problema di una sua evoluzione Nel 1982 il CNR avviò il progetto Osiride con l'obiettivo di realizzare una rete di computer conforme all'architettura Open Systems Interconnection dell'ISO Si trattava di un'architettura condivisa dai costruttori di computer che però in seguito non ebbe il successo sperato Internet infatti era basata sull'architettura TCPIP alternativa all'OSI e la sua affermazione come progetto dominante di rete di computer fece decadere il modello OSI nei primi anni 90 I primi ad aderire al progetto furono i costruttori Digital Honeywell Bull, IBM Italia, Olivetti e la società Texiel ai quali successivamente si è unita la società SIP che ha fornito un prezioso contributo di consulenza relativo a tutti gli aspetti inerenti l'utilizzo della rete ITAPAC E' importante ricordare che in quel periodo il CNUCE e la società Texiel uno dei partner del progetto SIRED erano in contatto diretto con i laboratori sia degli Stati Uniti che europei dove veniva sviluppato il software OSI in particolare mi piace ricordare un evento che si svolse al CNUCE verso il 1985 durante il quale il presidente del CNR, della Olivetti e il presidente della FinSIR firmarono un contratto di collaborazione e il presidente della FinSIR Il collegamento dell'Italia Internet ha rappresentato l'ultimo grande progetto del CNUCE nell'ambito del collegamento via rete pionieristico naturalmente a quel tempi il primo pacchetto di internet italiano ha attraversato l'Oceano Atlantico il 30 aprile del 1986 consentendo all'Italia di essere tra i primi a collegarsi con la ARPANET negli Stati Uniti in effetti perché per motivi geopolitici sul quale non mi intrattengo la Norvegia fu la prima nazione europea beh fuori dagli Stati Uniti a essere collegata con un nodo internet poco dopo il collegamento norvegese si realizzò il collegamento con il Regno Unito attraverso il gruppo di ricercatori dell'University College di Londra che peraltro ebbero delle grosse difficoltà con le quali abbiamo incontrato anche noi ma naturalmente prima di tutto occorreva prendere un contatto con gli americani in particolare con una persona molto simpatica Bob Kahn che io sono andato a trovare mentre ero professore visitatore alla Johns Hopkins e lui mi ha accolto nel suo studio con grande cordialità, disponibilità anche incoraggiamento ed erano interessati loro stessi alla creazione di nodi al di là dell'Atlantico o del Pacifico in definitiva io chiedevo che il Clunce potesse ricevere la stessa attenzione che aveva ottenuto l'Università Londinese e questa mi fu immediatamente concessa perché l'ottima che avevano per Luciano Lenzini naturalmente era estrema e quindi si sono dimostrati subito molto volonterosi di fare la loro parte che avrebbe facilitato questo collegamento dovevamo però procurarci della hardware una interfaccia da satellite a cavo e questo comportava naturalmente altre spese e altri passaggi burocratici già incontrati dai londinesi e pari passo capitati anche a noi ma naturalmente Lenzini è riuscito anche a creare buona volontà con la società telefonica di allora con il Ministero della Difesa con la società che gestiva Telespazio a Fugino e così il risultato è stata la nostra connessione tra i primi fuori dagli Stati Uniti e quindi il collegamento dell'Italia internet fu possibile grazie anche alla notevole collaborazione che Bob Kahn e Vince Cerf fornirono al Cluce e per questo il 26 maggio del 2006 su proposta di Luciano Lenzini il Rettore Marco Pasquali dell'Università di Pise conferì ai due illustri scienziati la laurea onoris causa in Ingegneria Informatica Now the Chancellor is delivering the Honoris Causa Diploma in Information Technology Engineering to Dr. Cerf and Dr. Kahn Grazie a tutti 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 Noi Grazie a tutti 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 Un campo Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti Buonasera Grazie a tutti 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 Cioè Grazie a tutti 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 Grazie a tutti